Lo spirito francescano, la capacità di ascoltare, di avvicinare la gente, gli umili. Sant'Antonio, padre Leopoldo, due santi così lontani nel tempo ma così cari e padovani. Per questo i frati della Basilica hanno deciso di mettere a disposizione la bellissima sala dello studio teologico per ospitare la mostra fotografica dedicata al piccolo frate Cappuccino. Oltre 60 scatti in bianco e nero realizzati dal fotografo Claudio Mainardi sul set del film On My Shoulders, sulle mie spalle del regista padovano Antonello Belluco. Saranno esposti dal 27 agosto. È un atto anche dovuto di conoscenza a un frate che era talmente sconosciuto per quello che faceva anche se Papa Francesco l'ha voluto con Padre Pio a San Pietro nell'anno della misericordia, nel 2016. Io credo che ci sia qui al santo l'opportunità che come francescano anche lui possa avere quello spazio di conoscenze che probabilmente non gli è mai stato attribuito. Dopo Antonio, guerriero di Dio, che racconta la vita del santo, Belluco ha voluto dedicare un film a Padre Leopoldo Mandic. Padre Oliviero, rettore della Basilica, ha così accolto a braccia aperte la mostra fotografica. I due santi erano accomunati dallo spirito francescano, ha detto Padre Svanera. Inoltre San Leopoldo era il confessore dei frati, quindi visitava spesso la Basilica di Sant'Antonio. Le foto esposte raccontano la genesi del film e le emozioni vissuti dagli attori che si sono confrontati con la storia del piccolo frate Capuccino. La fotografia è statica e quindi dentro ci devono essere tutti quegli elementi che trasmettono emozioni, che ti raccontano e il fruitore deve leggere, deve anche lui poter leggere una storia in una fotografia. La mostra ad ingresso gratuito rimarrà aperta fino a giovedì 8 ottobre. Grazie.